L'albergo Ristorante Roma vi dà il benvenuto a Camerino. Situato in centro e circondato da verdeggianti colline, l'albergo panoramico offre un ambiente tradizionale e confortevole, tipico di una struttura a due stelle. È aperto tutto l'anno e dispone di camere singole e matrimoniali, arredate con gusto e provviste di servizi. L'albergo propone servizio di mezza pensione e pensione completa. Il ristorante interno, infatti, garantisce ottima cucina tradizionale con specialità locali e nazionali. A disposizione degli ospiti, anche un comodo parcheggio per auto e moto per consentire di lasciare la macchina e godersi un soggiorno in assoluto relax. Si accettano le prenotazioni per gruppi, anche accompagnati dai loro piccoli amici a quattro zampe. Albergo Ristorante Roma a Camerino Cortesia e professionalità Grazie a tutti. Grazie a tutti.